È stato un saluto corale e ideale da parte dei familiari e della comunità eugubina, del mondo imprenditoriale e di quello istituzionale, ma anche dei tanti amici, a Franco Colaiacovo, fondatore con i fratelli Pasquale, Giovanni e Carlo, di Colacem e delle società appartenenti al gruppo Financo. Le esecue si sono svolte alla chiesa di San Domenico a Gubbio, con una celebrazione limitata negli accessi secondo le direttive anti-assembramento, ufficiata dal bescovo Luciano Paolucci Bedini. Un ultimo omaggio che ha voluto sottolineare la figura di Colaiacovo non solo come personaggio di spicco del mondo economico e imprenditoriale, da oltre 50 anni anima e colonna della principale realtà industriale regionale, ma anche come stimato protagonista di molteplici iniziative sociali, culturali e aggregative. Tratti emersi in modo vivido dai commossi ricordi che hanno concluso la cerimonia, portati dal responsabile area legale estero Pierfrancesco Verdese, che ha letto una lettera di Pasquale Colaiacovo, dal dirigente Pierfederico Baldinucci, dal gruppo di nipoti guidati da Filippo Colaiacovo, dall'amico Sauro Ghirelli, e in modo insolito ma emblematico nello spirito di Franco, dalla canzone intonata nel finale da la nipote Benedetta. Un imprenditore che insieme ai tre fratelli, Pasquale, Giovanni e Carlo, ha costruito un impero lasciando un'impronta forte in un'epoca di grande espansione dell'economia, ma restando un riferimento anche per i più giovani in questi ultimi tempi, decisamente difficili. E nel corso della diretta, curata da TRG, anche per consentire ai tanti che avrebbero voluto parteciparvi di essere presenti, non sono mancati i riferimenti a un'indole sempre improntata al dialogo e la generosità, al sorriso e alla gentilezza, così come ai forti legami con tradizione, passione sportiva, il saper fare al tempo stesso, saper condividere, momenti di socialità. E poi immagini dagli stabilimenti del gruppo Colacem da Tunisi e Santo Domingo, dove è stato osservato un minuto di silenzio alle 15, orario di inizio dei funerali, oltre che in tutti gli stabilimenti di Colacem sparsi in Italia e all'estero. Un eco che si è propagata come un gigantesco grazie, cui si unisce tutta la struttura di Umbria Televisioni, la nuova società editrice di Umbria TV e TRG, che nel rinnovare i sensi del più vivo cordoglio ai familiari, in particolare alla moglie Orietta e figli Giuseppe, Daniele e Laura, vuole ricordarlo con la simpatia e la disponibilità con cui accompagnavi il lavoro quotidiano, o anche un semplice incontro estemporaneo, condito magari da quella sua frase, Radio Gubbio senza dubbio, retaggio dei primi jingle anni 70, a cui era rimasto affezionato, sempre con la disponibilità, il sorriso e la generosità che ne hanno contraddistinto l'indole, l'estro e la voglia di innovare.